salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video faccio questo video il secondo oggi prima ho fatto uscire un video in cui ho presentato la mia tesi di laurea se volete andatevelo a vedere appunto una tesi di laurea sul karate però ora faccio questo video per leggervi un altro interessante articolo del maestro emmanuel giordano quest'articolo si intitola champuru il segreto del karate è un articolo che ha pubblicato il maestro emmanuel giordano ma è a cura in realtà di manuel vignola e adesso andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta perché secondo me è estremamente interessante e qui dice spesso si sente dire che il karate sia una sorta, è una sorta di champuru che è un piatto tipico di okinawa in cui i vari ingredienti di varie provenienze sono mischiati però è interessante questa immagine tuttavia molti stili rivendicano una sorta di purezza rispetto a tutti gli altri analizziamo meglio queste affermazioni a dispetto delle vecchie teorie in cui si diceva che il karate fosse stato sviluppato dai contadini kinawensi privati delle armi da editti giapponesi e bisognosi di defenders dagli avidi samurai satsuma oggi le cose sono molto più chiare seppur ancora bisognose di ulteriori studi sin dai tempi antichi il commercio nel mar cinese era molto sviluppato ed il regno delle Ryukyu di cui faceva parte okinawa era un crocevia marittimo estremamente importante già prima dell'insediamento delle 36 famiglie cinesi provenienti dal sud della Cina zona del Fujian e Kume alla fine del 1300 molti cinesi risiedevano a Shuri e molti di loro già praticavano le arti marziali secondo Tezuhiro Okama è a questo periodo che si possono far risalire le basi di quello che sarebbe diventato lo Shuri Te con il tempo gli scambi tra Cina e Okinawa si intensificarono notevolmente perché sappiamo che sono nati appunto c'è stato un intenso interscambio di rapporti commerciali tra Cina e Okinawa questo l'ho anche scritto nella mia tesi tra l'altro e molti okinawensi si recavano a loro volta a studiare in Cina tuttavia i commerci non si limitavano all'impero celeste e bensì comprendevano anche il Giappone, la Corea, il Siam e in generale i paesi del sud-est asiatico vari stili di combattimento perciò vennero amalgamati dai maestri dell'isola con quelle che consideravano le proprie pratiche peculiare ad esempio il Tegumi, il cosiddetto sumo di Okinawa e dati i contatti, l'intelaiatura del karate sarebbe stata formata dal Kung Fu cinese o meglio da vari stili di Kung Fu con aggiunta di quello che poteva essere utile da altre arti ad esempio il Muai Boran tailandese antenato del Muai Thai alla fine del 1800 tuttavia possiamo notare che dalle parole dei vecchi maestri come Anko Itosu il cosiddetto Tode, mano cinese, vecchia denominazione del karate era classificato in due linee ossia Shorin, che sarebbe stato conosciuto in seguito come Shuri Te, mano di Shuri, praticato nella capitale e Shorei, conosciuto in seguito come Nahate, mano di Naha, praticato appunto nella città di Naha inoltre Shoshin Chibana ci dice in una sua intervista che il karate sarebbe nato dall'unione del T di Chaitanayara ed il Kenpo di Tode Sakugawa mentre Shogi Yoshimura ci dice che l'arte praticata da Sokomba Tsumura era chiamata Uchinadi, tecnica di Okinawa mentre quella di Karri Gaonna era definita Tudi, ossia tecnica cinese a questo punto proviamo a mettere un po' d'ordine in queste affermazioni ci dice il maestro Emano Giordano sebbene rimangano ancora molte ricerche da effettuare da tutto ciò emerge un quadro sin dai tempi antichi i guerrieri delle Ryukyu elaborarono un sistema di combattimento indigeno amalgamando varie tradizioni marziali del sud-est asiatico, soprattutto cinesi sistema che denomineremo Ti diffuso soprattutto nelle famiglie più altolocate di Shuri, ad esempio Motobu appunto la famiglia di Motobu Choki in seguito vennero importate dal sud della Cina nel corso del 1800 altre tradizioni marziali, soprattutto tramite il porto commerciale di Naha e dall'unione di queste tradizioni di combattimento sarebbe nato il karate nelle linee di Shuri e Naha quello di Shuri un po' più legato al Ti quello di Naha più legato al Kung Fu cinese del Fujian di metà a fine 1800 le differenze si vedono anche osservando, ad esempio, le differenze di movimento del corpo tra praticanti di una scuola Shoninryu ed una scuola derivante del Naha Te come il Gojuryu Itosu studiò ambo le linee, inclusa la cosiddetta terza linea sia il Tomarite, il karate sviluppatosi nel porto di pescatore di Tomari tuttavia, come fecero tutti i maestri, prese quello che riteneva utile e lo amalgamò formando il suo stile personale anche se, come sappiamo da Choshin Chibana nei suoi ultimi anni elaborò ulteriormente il suo materale nell'intento di recuperare i vecchi principi di movimento dello Shuri Te e questo sta alla base delle differenze tra molti suoi allievi i primi, ad esempio Funakoshi, Mabuni, Yabu e Anashiro avevano un modo di muoversi ed eseguire i kata coloro che lo seguirono sia nella fine come Gusukuma, Chibana e Tokuda e stettero dietro i suoi cambiamenti ne avevano un altro con spostamenti che richiamano appunto il vecchio Ti il Gojuryu, per esempio viene considerato lo stile di Aonna tuttavia, ciò non corrisponde pienamente al vero e attenzione Choshin Miyagi apprese e rielaborò le vecchie tradizioni considerate di Nahate da diversi maestri sebbene il suo assegnante principale sia stato Higa Onna imparò dagli scambi con gli altri maestri del Ryukyutode Kenyukai viaggiò ed apprese i concetti delle arti marziali in Cina e creò il suo stile che infatti differisce dal Tunryu lo stile di Juhatsu Kyoda che è l'allevo più anziano di Higa Onna che prevede tra l'altro molti meno kata il Matsumura Seito di Hohan Soken parimenti non è lo stesso karate che praticava il suo antenato Sokon Matsumura già che anche Soken oltre a quanto appreso dallo zio Nabe Matsumura studiò con altri maestri anche nel Kenyukai come Hanashiro Chibana Kian eccetera importando kata che non facevano parte del curriculum di Matsumura ma adattandoli ai principi del karate di famiglia la nota famiglia d'origine cinese Kojo erede da antiche tradizioni marziali continuano nel tempo ad elaborare il proprio stile integrandolo con ulteriori conoscenze acquisite da altri maestri ed erano anche loro frequentatori del Kenyukai sono noti quindi i rapporti che avevano con maestri come Choshin Chibana la tradizione del Tomarite si può dire non diede mai vita ad uno stile definito e puro in primis perché a sua volta sarebbe una rielaborazione di pratiche cinesi e dello Shurite Chetoku Kian considerato da molti come continuatore di uno stile puro di Tomari era uno studente di Tosu tra gli altri e come dice Chibana e come fecero tutti i maestri Kina Wenzi rielaborò i katà per adattarli al suo fisico minuto e ai suoi principi di combattimento Chibana ci dice addirittura nella sua famosa intervista che i modi di praticare i katà Chintò e passai di Kian sono considerati unici proprio perché li modificò e li reinterpretò secondo la sua visione da tutto ciò emerge che ogni scuola di karate è il prodotto di maestri che studiarono tradizioni precedenti li rielaborarono secondo le loro esperienze e le loro idee e li trasmisero ai posteri per cui non esiste uno stile puro di karate il karate è di per sé è impuro proprio perché nato sviluppatosi come sintesi di molte tradizioni marziali ed esperienze dei vari maestri per maggiori informazioni come vi dico sempre alla fine di ogni articolo del maestro Emano Giordano potete leggere Karate Shorinryu katà Karate Shorinryu l'eredità della guarda del re di Okinawa la leggenda dei maestri di karate di Okinawa biografia curiosità e misteri manuale del karate e del kobudo di Okinawa quindi per maggiori informazioni come vi dico sempre potete volendo acquistare reperire questi testi bene ho concluso anche questo video se vi è piaciuto mettete like commentate condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo ad un prossimo video arigatou gozaimashita